L'inizio della parte attiva che ho appena avvento, qui nella sala dell'ultima con le luci e le luci, 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 le luci e le luci. L'inizio della parte attività di Ramos, perché una delle caratteristiche che ci dicono che è proprio uno sviluppo verticale, di 116 litri di sviluppo, avvento, da bloccare e superare. Considerate però la verticalità, soltanto una questione scenografica, da esercitica, sarebbe davvero riduttivo e ben di più è una dimensione che fluisce direttamente sullo sviluppo della grossa. Siamo in maniera assolutamente esponenziale, il potere di scavo di cancro che l'acqua 30% è in grado di esercitare. Grazie a tutti.